L'associazione Ruote Classiche Teatine guarda al futuro. Oggi incontro anche a Palazzo di Città con il sindaco, con l'assessore di Biase per parlare delle attività che avete messo in cantiere per le prossime settimane, per i prossimi mesi. Sì, come abbiamo già detto prima nel corso della conferenza stampa, l'associazione Ruote Classiche Teatine è un'associazione attiva sul territorio di Chieti da un po' di tempo che ha la finalità di promuovere la cultura del motorismo in genere ed in particolare della cultura motoristica in Chieti. Le attività che vorremmo portare avanti in un prossimo futuro saranno caratterizzate oltre che da mostre statiche di autovetture, soprattutto da una prima pubblicazione di un volume dedicato a tutte le attività agonistiche di carattere motoristico che si sono tenute sul territorio di Chieti dall'immediato dopo guerra fino ad oggi, con il recupero di tutti i personaggi, coloro che hanno partecipato, e un'ampia illustrazione fotografica. Una serie di seminari volti al recupero dell'aspetto culturale che è dietro al motorismo, ma soprattutto quella che è la nostra iniziativa è quella di poter contribuire ad una vita culturale nel settore motoristico che è già molto presente sul territorio abruzzese. Diverse sono le associazioni operative ormai da più decenni e quella che è la nostra iniziativa è quella di voler contribuire, di poter collaborare, di poter dare maggiore slancio a questa iniziativa, chiaramente dando la giusta riconoscenza e visibilità al nostro territorio che è appunto quello del Comune di Chieti.